Non c'è nulla di male a fare i complimenti a una ragazza per carità, però io vedo da molto tempo che questa cosa del complimento fatto alle donne, ma anche dalle donne che fanno complimenti agli uomini, è una cosa che va anche molto di moda, non si sa con quale merito, perché io penso sinceramente una cosa, che una persona prima di giudicarla bisogna conoscerla bene. Io penso che il complimento a una persona, se è bella, va fatto soltanto se una persona se lo merita. Io vedo tutti questi ragazzi su Instagram che neanche entrano a guardare le dirette di queste ragazze che subito gli scrivono se è bella, se è buona, queste cose qua. No, non funziona così, non funziona assolutamente così. È un complimento superficiale questo, con tutto il rispetto che ho per le donne, per carità, però è un complimento superficiale perché alla ragazza tutti questi complimenti, se gliele fai, potrebbe fare ciò che vuole, potrebbe tirarsela, potrebbe non tirarsela, oppure potrebbe non fregarsene proprio di questi lacchi e complimenti che uno le fa, ma siamo veramente sicuri che tutti questi lacchi che hanno queste ragazze siano fatte con merito? No, ma in genere lo fanno soltanto per complimentarsi con la loro bellezza, senza merito, senza aver approfondito questa amicizia. Io non so a che punto siano arrivate queste amicizie, però ripeto che il complimento va fatto se uno se la merita. Mai fare il complimento subito a una persona, mai, perché si accorge che voi gli state facendo un complimento superficiale, perché loro sanno benissimo cosa volete fare quando gli fate un complimento, volete sicuramente provarci, ma una donna non accetterà mai di andare appresso a un ragazzo che gli fa un complimento superficiale, senza merito. Quello se lo prende pure il complimento, se le prende pure i complimenti, ma troppi complimenti uno potrebbe anche dire cosa me ne faccio. Quindi mi raccomando, attenzione, io so che a voi piacciono tanto le donne, piacciono anche a me, però se volete fare una bella cosa, se veramente volete non fargliela credere, non gli fate mai dall'inizio tutti questi complimenti, per carità, rispetto per le donne, rispetto per gli uomini. Ma il complimento è una cosa che difficilmente una persona si dovrebbe meritare. Non è che se una persona va a scuola, prende subito dieci. No! Bisogna prima vedere se ha studiato bene, se se lo ha meritato. Di certo non è che la professoressa gli mette subito dieci, altrimenti sarebbe un voto superficiale, raccomandato. Quindi mi raccomando, conoscete bene queste ragazze, e voi ragazze, conoscete bene gli uomini. Mi raccomando, i complimenti solo se uno se le merita. Allora vale qualcosa, ma senza conoscersi vale zero il complimento. E' un complimento superficiale, senza senso. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace. Questa è soltanto una mia analisi, non dovete per forza stare a sentire, ma unito di noi ha le sue idee. Se il video vi è piaciuto mettete un like. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!